L'amministrazione comunale ha proceduto ad una tempestiva e completa ricognizione di tutti i soggetti in stato di quarantena fiduciaria e ha provveduto con immediatezza ad attivare il servizio dedicato di raccolta dei rifiuti urbani catalogati A1 come stabilito dall'ordinanza del Presidente della Regione numero 2, riferimento del 25 settembre 2020. A1, rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria, quarantena con sorveglianza attiva, coloro che sono stati a contatto con persone positive e sono in attesa di eseguire la tampone dell'esito dello stesso. Stanotte la TEC, dita che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ha proceduto al ritiro dedicato presso il domicilio e indicato da ogni soggetto posto in quarantena. Ad oggi l'ASP di Ragusa ha certificato 56 soggetti in quarantena. Si accontezza che tale numero è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, pertanto l'amministrazione comunale provvederà nelle prossime ore a soddisfare tutte le esigenze del caso, dando tempestiva comunicazione alla città. Ricordiamo a chi è tenuto ad osservare il periodo di quarantena di rispettare rigidamente l'obbligo di non avere contatti con altre persone come parenti o conviventi. Per qualsiasi necessità e eventuali disagi, potete sempre contattare l'ufficio Ecologia allo 0932 70 17 52, ufficio.ecologia.comune.ispica.rg.it, ufficio TEC 393 93 37 387 o allo 800 55 0 811. Abbiamo letto il comunicato a firma del sindaco Inocenzo Leontini e dell'assessore Paolo Monaca. Abbiamo letto il sindaco Inocenzo Leontini e dell'assessore Paolo Monaca.